Buongiorno dal Touch per la rassegna stampa che apriamo con la prima del Roma nel dettaglio quanto sta avvenendo ovviamente con il giallo sulle liste per le elezioni comunali cambiano i nomi in Catello Maresca attesa per l'ok della prefettura agli elenchi. Il centrodestra è diviso in tutte le municipalità e c'è un'esplosione nel partito democratico. In alto l'errore di Giorginio dal dischetto è pari amaro per l'Italia, qualificazioni ai mondiali, il rigore fallito dall'ex Napoli e niente vittoria con la Svizzera. E poi la fuga con il gratte vinci interrotta in aeroporto tutto tracciato, licenza sospesa al tabaccaio. Le pagine interne esponenti di destra nella coalizione Manfredi c'è autonomia nelle liste. L'ex rettore Lega in ritardo mi affido alla prefettura, oggi Giuseppe Conte in città. Maresca sindaco è giallo sull'elenco, dallo staff del PM sbagliata, quella comunicata sabato e tra i nomi nuovi spunta anche Pietro Diodato. Il caso la municipalità centrodestra di Laniato, due presidenti per ogni parlamentino, Fratelli d'Italia e Lega sosterranno i loro candidati alla guida dei territori, mentre Forza Italia va con le liste civiche. La coalizione di Maresca si spacca in due parti, rischia di regalare al centro-sinistra tutte le ex circoscrizioni nel dettaglio i volti e poi liti e transfughi clemente all'attacco. L'ex assessore nel nostro schieramento non vedrete mai cose del genere. Mattarella fonda i Novax, il presidente, mettono a rischio le vite e chiede sanzioni rigorose contro le violenze. Duro intervento del capo dello Stato, non si invochi la libertà per sottrarsi a un dovere morale. Il Quirinale condanna aggressioni e minacce subite dai giornalisti e anche il dettaglio dai sindacati. Senza l'obbligo col pass si aggira solo il problema. Il segretario CGL Landini boccia il permesso verde e attacca. Vogliono screditare il sindacato. Oggi il vertice con Confindustria. Minacce e insulti non si fermano. Tocca a Tajani la solidarietà al coordinatore di Forza Italia. Non ci faremo intimidire. Relazioni tra le persone sempre più difficili. L'allarme invece dei sessuologi. Colpa di pandemia e vergogna. Vaccini Napoli accelera la spinta della città da oggi fino a domenica. Porte aperte negli hub senza limiti. Una campagna non stop. Stazione marittima, fagioneria e mostra d'oltremare. Tutto pronto. Nessuna distinzione d'età. I vari dettagli dalle municipalità e anche dalle isole. Per il Green Pass Salvini costretto al primo. Dietro front. La Lega divisa, il leader che cede, si ha l'obbligo per chi è a contatto col pubblico. Basta ambiguità la richiesta di Letta. Non è finita ma non terrorizziamo le persone. Il direttore dello Spalanzani, scuola e trasporti. Occorre un piano Marshall. Chi votano all'obbligo lasci il governo, l'attacco di boccia, l'esecutivo nato per uscire dall'emergenza. E crescono i ricoveri gravi. In Campania aumentano le terapie intensive ma meno ospedalizzazioni ordinarie. 11 morti. I numeri del contagio resta stabile attorno al 2%. Il tasso di incidenza sono 394 i nuovi positivi. La Sicilia ancora prima per numero di contagi seguita da Veneto e Toscana. Il positivo che scappa dall'ospedale è due rave sventati. C'è chi ancora finge di non capire. Da nord a sud si susseguono le feste clandestine. Inoltre i vaccini ai più poveri, il patto di Roma. Speranza al G20 della salute. La sfida dell'accesso alle dosi per i fragili. Non escluse nuove chiusure. Mascherina in classe Green Pass. Oggi la prima prova per la scuola. Campanella per 90.000 ragazzi in presenza in Alto Adige. Sarà apripista per tutta l'Italia. Certificato verde. I controlli dei presidi alla prova. Nel dettaglio anche quanto sarà poi effettuato in campania nel servizio. L'unico modo che abbiamo per sconfiggere il Covid è la vaccinazione. Comprendo il timore delle famiglie nel vaccinare i propri figli, ma è fondamentale credere e affidarsi alla scienza. Così l'assessore regionale all'istruzione, Lucia Furtini, che lancia la campagna più vaccini, più vicini, ha una settimana dal suono della prima campanella. Mancano all'appello ancora migliaia di ragazzi, soprattutto nella fascia 12-18 anni. La Furtini fa appello a docenti e dirigenti scolastici. Vista la funzione anche educativa della scuola, abbiamo chiesto un sostegno da parte di questa comunità rispetto alla vaccinazione dei nostri studenti. Quindi, dato il mio possesso, so che tra i 12 anni la percentuale di vaccinati è molto inferiore rispetto per esempio ai ragazzi che hanno 16, 17, 18 anni. Quindi la componente di fiducia è chiaro che giochi un ruolo fondamentale. Per questo stiamo cercando davvero di far capire alle persone quanto sia importante. È importante vaccinarsi perché, al di là di quelli che possono essere altri strumenti messi in campo, edilizia leggera, piuttosto che trasporti, è evidente che la cosa più importante, la strategia che può davvero portarci fuori da questo incubo è quella di far vaccinare il maggior numero di persone. Intanto sono 394 i nuovi positivi al Covid in campagna. Su 19.259 test il tasso di incidenza resta sostanzialmente stabile al 2,04%, ma nel bollettino dell'unità di crisi si censiscono ben 11 vittime. E a Napoli muore per Covid a 61 anni anche Paolo Tortora, il sarto della ristorazione, grande protagonista del mondo del catering negli ultimi 40 anni. L'economia nazionale è franco ottimista, crescita oltre le stime. Il ministro dell'economia è inietta fiducia e avverte ora ridurre il debito. Giorgetti incentivi a chi aiuta. Reddito di cittadinanza, elite tra Meloni e l'asse PD 5 Stelle, la leader di Fratelli d'Italia Metadone di Stato lo ha definito. Lega Fratelli d'Italia, selfie di alleanza, Salvini commenta governeremo insieme. Abitonto muore per uno sguardo di troppo, ventenne, prende a pugni quarantenne e poi si consegna. A Trieste sparatoria per un appalto scippato, il movente dietro al duello in strada tra due clan. A Kabul l'Italia sposta l'ambasciata, si trasferisce a Doha. Di Maio incontra l'emiro del Qatar, nel Pashmir si combatte ancora e si una crisi umanitaria. L'appello del Papa, cogliete e proteggete il popolo afgano, prego per i vulnerabili, non restate a guardare. Gli Stati Uniti vent'anni dopo l'11 settembre, torna la paura, la commemorazione, il ritorno dei talebani rischia di riportare l'America indietro nel tempo. Rogo di Torino, c'è un indagato, è il Fabbro. Stava installando una cassaforte e accusato di incendio doloso. E poi anche un colpo di stato dei militari in Guinea, arrestato il Presidente Condé, il paese è nel caos. Tra l'altro difficoltà anche per un match Guinea-Marocco. La carica dei 600 parte, prime polemiche sull'assenza del Movimento 5 Stelle, schermaglie social, attivisti contro parlamentari, le comunali presentate le liste, parte ufficialmente la campagna elettorale, Clemente Mastella, tutti contro me. Dati stabili al Sampio, vaccini, al Via Oggi, gli Open Day, lega ambiente, il Presidente Basile, mascherine e guanti ha abbandonato in strada. C'è il monitoraggio. Casa di Jonas, a breve l'affidamento dei lavori, struttura pensata per malati di Alzheimer e bimbi con disturbo dello spettro autistico. I dettagli anche da Salerno, 40 comuni al voto, la partita più importante si gioca nel capoluogo, alle urne anche le matasse batipaia e deboli. Chiuse le liste, adesso è iniziato il countdown per il grande appuntamento elettorale della prima settimana d'ottobre. Ad Avellino, al voto l'Irpinia del civismo e dei parenti in lista. Partiti grandi assenti di questa tornata elettorale, per sette sindaci la partita è già chiusa. Parolin a Montevergine, spero che il Papa venga presto qui. Il segretario di Stato Vaticano, i vaccini atto d'amore e responsabilità. La lettera del Santo Padre. La cronaca da Napoli, il tabaccaio fermato a Fiumicino, accusato di furto, con sé non aveva il tagliando, gli è stata notificata la denuncia ed è in stato di libertà. Dopo essere scappato con il grata ed inci da 500 mila euro della cliente, stava per scappare alle Canarie. Le reazioni, quartiere diviso sulla vicenda, tutti a giocare i numeri al lotto, ma nessuno ha visto l'indagato. I monopoli abbiamo tracciato tutto, sospesa la licenza, grazie ai sistemi informatici individuati, sia il biglietto che il cellulare dell'uomo utilizzato per verificare la vincita. A Rione Alto, investito davanti all'ospedale, muore Ferdinando Pirozzi, 69enne, falciato da una moto, gravissimo il conducente, ambulanza arrivata in quasi 40 minuti. Caditoie otturate, rischio allagamenti al bomero, i comitati cittadini intervenire subito, si conterranno i danni alle prossime piogge. Andiamo anche con la prima nazionale, la Repubblica Mattarella sferzata, Ainovax. Non si invoca la libertà per sottrarsi al vaccino, mettendo a rischio la vita degli altri e chiede sanzioni severe per le violenze. A Roma il G20 dei Ministri della Sanità sulla pandemia, immunizzare i paesi più poveri o non riusciremo a fermare il virus. Tregua Salvini-Meloni, Nucleare Verde, La Lega con Cingolani, il reportage tra le donne nascoste di Kabul. L'offensiva di Mattarella non si invoca la libertà per sottrarsi ai vaccini. Il Presidente interviene dopo le violenze e le minacce Novax chiedendo sanzioni rigorose. Immunizzarsi è un dovere civico e morale, non si mette a rischio la salute degli altri. Battiston, l'intervista al fisico esperto di matematica della pandemia, lo dicono i numeri, la campagna italiana arginato, la variante Delta. Una sponda a Draghi sulla strada dell'obbligo, il colle mai così duro. Il capo dello Stato era già intervenuto per appoggiare la campagna in corso, stavolta però i toni sono stati ancora più netti. La sfida del G20, garantire i vaccini ai paesi più poveri. Al vertice di Roma, tra i Ministri della Salute, patto contro le pandemie, speranza. I farmaci sono diritto di tutti, non un privilegio per pochi. E grazie al Green Pass la Francia sta superando la quarta ondata. Colloquio con Olivier Veran, ministro di Macron, atteso oggi al Summit. Con il certificato obbligatorio il tasso di vaccinazioni è aumentato, è stata la scelta giusta. La tregua tra Meloni e la Lega, governeremo insieme il Paese. Dopo settimane di tensione e dispetti reciproci, la leader di Fratelli d'Italia a Cernobbio, in scena la foto della pace con Salvini, ma avvisa. Siamo una coalizione, gli elettori sceglieranno se premiare chi ha scelto di stare al governo o chi no. Battute e disgelo il messaggio per la platea del forum, che alle urne la destra non si dividerà. Salvini sul nucleare so con gingolani statali. Sì al Green Pass, sostengo le idee del ministro sull'energia. Se uno già dice no a valutare, dimostra chiusura mentale. Franco vede la crescita al 6%, ma i conti pubblici vanno risanati. Il ministro chiude il forum Ambrosetti, il recovery plan da solo non basta, serve uno sforzo corale del paese per la fase successiva. Media un negoziato sull'equocompenso tra editori e colossi web. La linea di Moles e il tavolo sarà convocato entro due settimane, dividere il valore tra chi informa e chi distribuisce contenuti online. Il piano del governo. I dettagli anche dalla regione con Repubblica Napoli, Maresca e Giallo sul caso di Odato. E Manfredi presenta la squadra. Dopo la rissa con nonno di Fratelli d'Italia, l'esponente della destra ricompare nella vista. Attesa per la Lega, oggi arriva Conte, l'ex ministro, con me la parte migliore della città. È gelo sui nomi di Moretto e di Prisco. La foto con fuori grotta, l'assalto al rider calci e pugni da una baby gang. Manfredi presenta la squadra. Ecco la mia società civile, il meglio della città. Imbarazzo per gli impresentabili nello schieramento. Saranno i cittadini a scegliere. E oggi arriva l'ex premier Conte. Napoli merita di avere qui tutti i leader nazionali. La festa di San Matteo in Piazza della Libertà accuse al sindaco fa campagna elettorale. A Salerno i candidati concorrenti, simbolo De Lucchiano, e non è sicura. Liste a rischio, Lega e Maresca col fiato sospeso per il verdetto. Gli ho dato passa con l'ex PM ed è giallo. L'attenzione è anche con la foto all'ufficio elettorale durante la presentazione delle liste. Di Forza Italia, candidata Assunta Cutarelli, la zia del killer di Jenny Cesarano, il coordinatore cittadino di Forza Italia. abbiamo chiesto i carichi pendenti e il casellario giudiziario ai nostri candidati. A noi la camorra fa schifo. Fuori grotta, rider aggredito calci e pugni da una baby gang via Lepanto. Prima gli sputi contro la vittima, un 26enne, poi l'assalto violento. Il ride ripreso in un video, identificati e denunciati due minori, hanno 15 e 17 anni. A Pomigliano d'Arco tragedia, operaio muore schiacciato da una pressa, indaga il PM. Fico dare risposte su mandanti a killer del delitto Vassallo, 11 anni fa l'omicidio del sindaco di Pollica. Lo sport, la grande attesa alle 21, in diretta, in chiaro, sul canale 696. Il test Napoli-Benevento al Maradona. Test per la Juve, Petagna e Unas. Coppia d'attacco, l'amichevole in vista del big match di sabato per gli azzurri e della sfida di venerdì Benevento-Lecce. De Laurentiis primato nel silenzio, la strategia per recuperare visibilità. Anche il commento in ottica futura per gli azzurri, andiamo con le pagine di riferimento per le cronache da Salerno, bocciato dal Ruggi Eccellenza in America e il Ruggi lo boicotta. La storia del dottor Antonio Panza, emigrato negli States dopo la beffa del concorso, ha chiesto di rimanere Severino Jesu da parere favorevole ma l'ospedale. Titoli e meriti fu primo, poi vinse Coscioni e c'è la grande attesa a Salerno. È il giorno di Frank Ribéry, oggi la grande festa alla Rechi. Fabiani pensa anche a David Luiz. Salerno ha bisogno dell'assessorato al turismo, Napoli raccoglie la sfida. Il PSI che apre la campagna elettorale, ieri la presentazione presso il Mediterranea Hotel, erano presenti i candidati al Consiglio. Per il Partito Socialista parte un nuovo protagonismo, arriviamo lontano. Massimo Runca in campo per tutelare i rioni collinari, Pacifico puntiamo sugli eventi. Mascotto di questa lista la diciottenne Alessia Lorito e lo studente universitario Giovanni Rosco. Noi il futuro. L'amministrazione comunale ha lavoro per la nuova edizione di Lucida Artista, lo ha anticipato l'assessore al commercio Dario Loffredo ma tutto dipenderà dall'andamento della pandemia. Noi proseguiamo con i dettagli regionali in Irpina, ci spostiamo con i dettagli Covid nel servizio. E' iniziato il mese di settembre e l'obiettivo dell'Asla di Avellino è recuperare i ritardi di agosto. Si registrano comunque complessivamente buone percentuali che avvicinano all'immunità di greggio. Ora l'imperativo è spingere sull'acceleratore con open day praticamente quotidiani per un autunno più tranquillo e aprire le scuole in sicurezza. Siamo a recuperare dei ritardi di agosto, delle persone che sono state in vacanza e che non hanno potuto fare una seconda dose. Infatti il nostro centro oltre a essere open day e quindi garantire una prima dose a chiunque volesse farla, abbiamo la possibilità di recuperare anche le seconde dosi per chi ha avuto dei ritardi e non ha potuto. Di ciclo completo siamo sotto all'80%, come invece prima dose abbiamo vaccinato al di sopra dell'80% della popolazione. Quindi ci stiamo avvicinando all'obiettivo, dovremmo ovviamente lavorare arduo tutti questi giorni che ci rimarranno e poi dovremmo una volta terminato questo pensare a una terza dose che probabilmente almeno per le fasce a rischio, per i soggetti fragili, le persone immunodepresse, sarà necessaria e penso che nel giro di pochi giorni, poche settimane si comincerà. Immunizzate oggi anche diverse suore francescane per evitare possibili focolai nei conventi dopo l'esperienza negativa nel periodo pasquale in un monastero a Santa Lucia di Serino. Nelle ultime 24 ore sono 876 le dosi di vaccino somministrate in tutta la provincia, 15 i nuovi positivi su 533 tamponi processati. Lo sport da Salerno e il Riberi dei Salerno impazzisce, il fuoriclasse francese sbarcherà alle 8.30, quindi da pochi minuti a Napoli, poi la firma, visita e presentazione in grande stile alla Rechi. Inizia la grande avventura di Scarface in Granata, intanto dalla Spagna rilanciano gli sceicchi del Paris Saint Germain, sono interessati all'acquisto della società Granata. Appuntamento alle 16, accesso solo col Green Pass. La frenata per Nicolas Viola e Granata sulle tracce di David Luiz. Dopo il colpo Riberi, la Salernitana sogna in grande e pensa al difensore brasiliano ex Chelsea Arsenal, svincolato da alcune settimane. Intervista a Giampiero Ventura, Riberi farà qualcosa di eccezionale. Domenica torna il campionato e la Salernitana sarà di scena a Torino. Il tecnico è doppio ex, per chi ti ferò nessuna delle due, spero solo di divertirmi. Dal sito ottopagine.it le ultime grave schianto in scooter a Gesualdo, due quindicenni in ospedale, uno trasferito a Bari. Tragedia sfiorata, ancora una serata da Codice Rosso all'ospedale Frangipane di Ariano. Un nuovo grave incidente con le sue ruote in Valle Ufita, con le due ruote dopo la tragica morte di Roberto Alborelli lungo la variante ad Ariano Irpino, ancora un tour de force per i sanitari del pronto soccorso. Inoltre la cronaca da Ischia trappole illegali in area marina protetta, sequestro dei carabinieri in azione militari del nucleo subacquee di Napoli. Con la collaborazione dell'ente gestore del Regno di Nettuno e dell'Associazione Ester hanno eseguito alcuni controlli nell'area marina protetta che circonda le isole di Ischia, Procida e Vivara. Sei le trappole per la pesca individuate e sequestrate sui fondali tutelati dalla legge di Sant'Angelo d'Ischia. In una di queste era imprigionato un gattuccio di mare, poi immediatamente liberato. Continuano gli accertamenti per verificare chi abbia piazzato le nasse rinvenute in area protetta. In prima pagina anche la corruzione da Napoli due arresti. Indagato un funzionario delle dogane, i carabinieri hanno eseguito all'alba due misure cautelari della procura partenopea. I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale procura della Repubblica nei confronti di due indagati, entrambi destinatari degli arresti domiciliari, poiché gravemente indiziati di corruzione. L'indagine è stata condotta dal nucleo investigativo e coordinata dalla procura della Repubblica partenopea. Da Salerno, arrestato per terrorismo nel Salernitano, Abdel Raham chiede asilo politico. E poi la cronaca scomparso da Salerno venerdì pomeriggio si cerca Guglielmo Belmonte, ore d'angoscia per la famiglia, scatta l'appello via social. In piena città il miracolo della vita, nate le piccole caretta caretta a Salerno, le onde erano però troppo forti e tartarughine sono state accompagnate in mare all'alba. La cronaca da Pagani, 17enne ferito con un colpo di pistola nel rione Sanità. A Napoli, indagini in corso per ricostruire il movente. Salernitano al setaccio, controllate oltre 6.500 persone, multati 5 titolari di esercizi pubblici per violazione norme anti-Covid, proprio sul tema Covid, i dettagli del servizio. In provincia di Salerno la curva dei contagi resta stabile, ma il Covid provoca ancora decessi. A Baronissi ha perso la vita un 74enne che era ricoverato a Ruggi ed era risultato positivo lo scorso 28 agosto. È la trentesima vittima dall'inizio della pandemia. Sempre nella Valle dell'Irno invece, Bracigliano ha raggiunto il traguardo Covid-free. Al pari di Positano, l'allerta in ogni caso resta alta, soprattutto in vista della ripresa delle scuole, un tema di cui si è discusso anche nel corso del convegno Psicologia ed educazione, organizzato nell'ambito della seconda edizione del premio intitolato alla dottoressa Concetta Tenuta. Noi dobbiamo far sì che questa crisi della pandemia, che veramente ha creato grandi disagi, possa rappresentare uno scatto di progressione nell'educazione della nostra società e nel miglioramento delle finalità di questo nostro lavoro. Gli esperti ritengono necessario inserire la figura dello psicoterapeuta anche in ambito scolastico. Questo convegno non vuole essere altro che un supporto promozionale alle problematiche che possono avere le scuole se non si dotano adeguatamente di una funzione psicologica sufficientemente strutturata. Ma il premio è stato soprattutto l'occasione per ricordare una professionista, stimata e ben voluta da tutti. Abbiamo appunto istituito un premio che consiste nella consegna di una borsa di studio equivalente al pagamento del primo anno della retta del corso di specializzazione presso l'Istituto ISPREF di Psicoterapia Sistemico Familiare. Come ricordato anche da 8 pagine.it alle 21 la gara amichevole in diretta sul 696. Grande appuntamento con Napoli Benevento e la cronaca. Aggredisce una guardia giurata e tenta di rubare la pistola. Arrestato è successo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Betania. Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale sono intervenuti presso il pronto soccorso dell'ospedale Villa Betania per un paziente molesto. Inoltre da Avellino esplode tubatura, mezza città sott'acqua, un giunto acceduto in un pozzetto. Nessun intervento da parte del comune nella serata di ieri. Una importante tubatura è esplosa lungo via circunvallazione, probabilmente un giunto acceduto e la forte pressione dell'acqua ha fatto il resto. Anche le immagini da via circunvallazione nel capoluogo Irpino. Da Benevento, Covid, dati stabili al Sampio e l'attualità mascherine abbandonate in strada. Al via il monitoraggio di Lega Ambiente, il Presidente Basile, un problema per l'ambiente e le strade, a rischio allagamenti. Ecco il perché. Sono ormai quasi due anni che l'emergenza Covid è entrata a far parte prepotentemente della nostra quotidianità e se l'utilizzo dei guanti è venuto meno quasi subito, le mascherine sono diventate parte integrante del guardaroba di tutti. Ci si è abituati a indossarle ma sembra persistere almeno per alcuni la cattiva abitudine di abbandonare i dispositivi in strada. Notizie anche da Caserta, Movida blindata dopo l'omicidio del 18enne, tantissime le pattuglie in strada dopo l'accoltellamento mortale di sabato scorso. Elezioni amministrative in Campania a Caserta e la carica dei 7. Sono 753 i candidati per un posto in Consiglio, 31 liste in campo allo scadere del termine. Un'ultima notizia dalla prima pagina con il dettaglio sul vaccino. Locatelli presto la terza dose per i pazienti fragili. L'introduzione dell'obbligo è una decisione che spetta alla politica. È tutto per la rassegna stampa. Ringrazio in regia Michele Urciuolo. Buon proseguimento di giornata sul canale 696. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.